Claudio Lippi, concorrente, attenzione Attenzione, sì l'hai fatto bene, è sempre di una sottile ironia ma di una dolcezza Attenzione nel senso che l'attenzione ce la metterò io, ho voglia di divertirmi Si ha un po' l'impressione di essere al primo giorno di scuola perché hai una giuria che ti guarda, che ti osserva che vede il tuo modo di gesticolare, di imitare, di cantare in primis Mi aspetto soprattutto la possibilità e la consapevolezza che anche cantanti lirici, magari come me, che vengono dal mondo più classico possono in qualche modo mettersi in gioco Un'avventura completamente diversa dalle tue, diciamo, totalmente, ma mi stuzzica proprio per questo È uno dei miei top 5 programmi preferiti di sempre, sognavo di farlo e alla fine sono qui Ho sempre fatto musica e ho studiato l'Accademia di Bono di U2 Quindi la musica e il canto è una cosa che ho sempre fatto Un'altra sfida quella di Platinetta, quella di partecipare come concorrente a tale quale scena Altro che sfida, oltre che la famosa e solita voglio superare i miei limiti Quelle frasi lì un po' da Miss Italia, con tutto rispetto e per carità Non è tanto la sfida in sé quanto la dimostrazione, spero, positiva Che un filo di passione e un'applicazione alle regole dovrebbero produrre dei risultati Una FIFA assurda, ormai siamo agli sgoccioli e penso, ripenso a quale personaggio mi segneranno E mi toglie il sonno Annalisa, mi ne ti parte avvantaggiata con la tua voce Ma no, no, sono tutti invece, sai, molto dotati Alcuni di loro si sono riscoperti in realtà con una grande data vocale Penso che il mood sia quello del divertimento, del gioco e questo abbasserà un pochino la tensione Prima di tutto parliamo di Marco Kart e il nuovo look Il nuovo look è un colpo di testa Nello Conti che hai detto di questa tua Miss? Mi ha guardato, non ha detto niente, mi ha detto Marco mi raccomando divertiti Ti ho detto sì sì sì, assolutamente